ciao a tutti bentornati questo è un buonissimo video questo è come ho fatto video poco fa la recensione di questi e questo è quello l'ultimo arrivato questo è il natural bad acqua di cocco molto molto buono infatti è ancora pieno perché ovviamente l'ho aperto da poco l'estate di cocco infatti c'è un l'estate di cocco un cliente sa proprio di cocco infatti che faccio così un profumino allora che questo è un buon linci questo l'ho comprato lui 2 questo costato un euro e 40 euro 50 non ricordo più che stavo cercando un po' di scuola poi visto che questo qua l'hanno fatto ha riguardato l'inci è buono ma infatti i codici barri sono diversi per vedere se si codici barri sono uguali sono diversi però pazienza si becca sono tre si becca diversi cara può essere lunga e questo 2 quindi io ve lo consiglio straconsiglio bellissimo poi quando fai il bagno dopo un po' sparisce quando ti metti nella vasca lo fai la schiuma dopo un po' se ne va via però è comodo perché anche questo ti rimane sulla pelle è bello prodotto profumato e ora consiglio se volete provarlo dalla netto bed un costo caro questo è il cocco e questo video è tutto noi ci vediamo un po' su video per finire del tasto e basta noi ci vediamo come sempre ai prossimi video ciao mi raccomando iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto se ci vedete iscrivetevi al canale ciao 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 Grazie a tutti